Ben trovati a questa nuova puntata di Punto d'Incontro, solitamente siamo qui a parlare magari di problematiche, di situazioni poco carine, di economia, di società, invece oggi parliamo di qualcosa insomma di bello, parliamo di cinema, parliamo di televisione, parliamo di arte, lo facciamo con un graditissimo ospite con noi Simone Gandolfo, ciao a tutti, diciamo un'eccellenza locale visto che insomma esportiamo il nome di Imperia al di fuori dei nostri confini in maniera importante, tra l'altro grazie di essere con noi ti abbiamo strappato tra i tuoi impegni perché sei sempre al lavoro. Sono sempre al lavoro sì perché me ne invento sempre una però è un piacere, poi io insomma anche se sono spesso in giro, mia moglie lo sa bene ma vivo qua, sono molto legato a questa terra, è il posto dove mi raccolgo anche per trarre diciamo ispirazione, ho fondato qui una società di produzione video con cui ho fatto pericolo verticale, cose cattive, insomma e tante altre cose quindi sono molto legato a questa terra e quindi mi fa molto piacere essere qui. Attore, scrittore, regista ma facciamo un po' il punto sulla tua carriera, ripercorriamo insomma anche le prime tappe, i primi passi. I primi passi devo dire che from the very beginning, veramente dall'inizio, io ero un ragazzotto con pochissima voglia di studiare e con tanto travaglio esistenziale, quando avevo 16 anni ho avuto la fortuna anche grazie a una professoressa che mi ha guidato che era Maria Latrucchi, la mia professoressa di letteratura e infatti io ritengo che siano molto importanti i professori perché in quegli anni lì non sai né carne né pesce, non sai bene cosa vuoi fare. Ti trovano la strada, leggono insomma. Leggono tra le righe, bisogna sapere leggere il potenziale diciamo, non quello che si vede perché quello che si vedeva era veramente un gran casino. Ho fatto questo corso di teatro e ho subito capito che io quello volevo fare da grande, per cui poi finite le superiori sono andato allo stabile di Genova, ho fatto l'accademia allo stabile di Genova, poi sono andato a Roma, i primi tempi sono stati molto duri nel senso che sai, è difficile. Eh, siamo in tantissimi, siamo in tantissimi, è anche un mestiere in cui è difficile capire dove sono i confini tra la professionalità, l'immagine, le cose, insomma, quindi diciamo i primi tempi sono stati molto duri, poi piano piano, piano piano, piano piano, ho cominciato a fare delle cose, credo che la prima cosa, no la prima cosa grossa, la prima cosa che mi ha poi portato un pochino di più a essere conosciuto dal grande pubblico sia stata interpretare Fausto Coppi in Bartoli d'Intramontabile nel 2004, 10, 11, è passato, è passato tanto tempo, poi dopo sono andato a New York, mi sono diplomato come regista alla New York Film Accademi, sono tornato, ho cominciato a fare anche regista, ho fatto un film horror, un programma per Sky, adesso sto scrivendo una fiction, insomma, un po' di cose, sì, non ci facevamo mancare niente, dai. Hai parlato di questa interpretazione di Fausto Coppi, è stato un momento quindi di svolta per la tua carriera? Indubbiamente, sia per il personaggio, perché comunque voglio dire Fausto Coppi e Bartoli potrebbero essere paragonati a Achille, Ettore, come portata mitica, no? Quello era un ciclismo veramente eroico e quindi sentivo una grande responsabilità sulle spalle, però devo dire che... e anche lavorare con Alberto Negrin, che è stato un maestro, si può dire per me, uno dei... di quelli che ho incontrato, dei... no, sono stato fortunato, ho incontrato delle persone che mi hanno insegnato tante cose. Ma cosa hai pensato quando ti hanno affidato questo ruolo? Insomma, faceva anche un po' paura dire, devo fare Fausto Coppi. Beh, sì, faceva paura, senza dubbio, però, come dire, io sono di quelli che pensano, butta il cuore oltre l'ostacolo, il cavallo lo seguirà. Come faceva Coppi? Come faceva Coppi, cioè se stai a pensarci troppo rimani impantanato. Poi, con l'età, ho imparato a bilanciare meglio, come dire, cuore, coraggio e pensiero, perché anche la... a volte anche fermarsi, fermare le bocce e... e fare un po' di analisi è utile, però non deve... non deve... non deve... non deve... non deve... non deve... bisogna sempre avere il gusto del... del gioco e della sfida, se no... se no non vai e vanno. Tra l'altro, piccola curiosità, per interpretare Fausto Coppi ti sei dovuto anche allenare. Sì, abbiamo fatto io e Favino quasi 6.000 km in bicicletta per allenarci. E beh, d'altronde, come dire, io non so giocare minimamente a pallone, minimamente proprio, se ero uno di quelli che mettevano sempre in porta da piccolo, perché... se dovessi interpretare un calciatore, farei un 5-6 mesi di training, perché non è una... è chiaro che non devi essere un professionista, ma devi essere credibile a interpretarlo, cioè la pedalata, la gamba, il polpaccio, eh, quello è... anche lo stile, insomma. lo stile. Poi ci siamo allenati e abbiamo fatto 6.000 km, ma non sulle... mi ricordo, eravamo sponsorizzati da una marca di biciclette che... e ci mandò una super bicicletta in carbonio, dicono, no, no, ci dovete mandare una bici di ferro, di quelle che usavano loro, perché sennò ci alleniamo sulle biciclette sbagliate, insomma. E quindi, insomma, è stato un po' il primo riconoscimento, poi da lì... Lo hai rifatto il ciclista? Ho rifatto Girardengo, sì, 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 ho fatto Girardengo, ma Girardengo era... chiaramente era un grandissimo ciclista, ma il focus del film era più sull'amicizia presunta tale con... Col bandito. Col bandito. E invece Coppia e Bartali era proprio un film sulla sfida sportiva di loro due. Certo, Girardengo eri assieme a Fiorello. Fiorello, Beppe Fiorello, che insomma è un grande professionista e... e poi ho cominciato a... ho scoperto che in realtà da grande non volevo fare solo l'attore, ma volevo fare anche il regista e l'autore, insomma, televisivo, cinematografico, lo sceneggiatore, e quindi ho cominciato a fare anche quello, insomma. Che sono due cose, sì, che si toccano, però diverse, insomma. Sono molto diverse, diciamo che... Sono nello stesso mondo, ma... È come fare il portiere o l'attaccante. Giochi tutti e due a calcio, magari giochi anche nella stessa squadra, però... insomma, uno prende la palla con le mani e l'altro con i piedi, ecco, diciamo... Quindi... Cosa ti piace di più? Ma se devo essere sincero, a me piace di più fare il regista, perché sei... L'attore è come un centometrista, cioè arriva in un momento, deve fare la sua performance, deve essere perfetta perché tutta la macchina che è stata costruita intorno, ruota intorno a lui, in quel momento lì, però poi se ne va, cioè è un lavoro molto, appunto, dai centometri, no? Dieci secondi alla massima velocità. Invece il regista è far la maratona, cioè tu sei il primo che c'è e l'ultimo che se ne va. E quindi a me che io sono molto... a me piacciono molto i rapporti umani, creano anche un gruppo di lavoro, no? Fare in modo che la vita professionale si mischia anche con quella... con quella privata, per cui cresci tutti gli incontri che fai nel lavoro, ti fanno crescere, cioè se no... Cioè questa è una grande possibilità che mi dà il mio lavoro, cioè di... conoscere persone di valore, aumentare di valore anch'io, valore intendo in senso morale, in senso etico, anche perché quello che poi trasmetti è quello che sei, non puoi trasmettere qualcosa... almeno io non credo che tu possa trasmettere qualcosa di diverso da quello che sei. E quindi facendo regista hai più modo di incontrare, di interfacciarti con tanta gente e soprattutto lavori con l'io profondo, non con l'ego, facendo l'attore lavori con la faccia, quindi insomma... ha altre problematiche, ecco, che per carità mi piace tantissimo, continuo a farlo, mi diverto tantissimo a fare l'attore, però se dovessi scegliere un giorno, mi trovassi nella posizione di dover scegliere tra fare l'attore e fare il regista, penso che sceglierei di fare il regista. Poi hai lavorato con tantissimi registi, da ognuno magari... Rubi sempre, rubi sempre, nel senso... Benigni anche, per esempio. Benigni, mi ricordo, io facevo un personaggio molto piccolo e niente, io vengo dal teatro, ho cominciato con il teatro e continuo a fare teatro, adesso è un po' che non lo faccio, ma continuo a fare teatro, a teatro non c'è stop, per cui qualsiasi cosa succede, tu devi andare avanti e devi gestirtelo. Io mi ricordo, facevo questo poliziotto che arresta Benigni durante la Tigre e la Neve e la scena era praticamente muta, cioè io guardavo i documenti, lo prendevo e lo portavo via. Benigni ha cominciato a improvvisare e io gli sono andato dietro, per cui lascio un porto d'oro, poi l'hanno un po' tagliata, però comunque è molto lunga, e lui improvvisava e io gli andavo dietro, insomma... E' accaduto proprio così? Così, e lui diceva, no, perché io sai, l'è vivo, io gli faccio, sì, in verità, tu sei Benigni, io fai quello che vuoi, io ti vengo dietro, quindi è stata una bella esperienza. Cinema, teatro o televisione? Ma se dovessi scegliere anche lì, mi piacciono tutti e tre, se dovessi scegliere un medium, per questo tempo sceglierei la televisione. Ne è prova anche il fatto, non sono solo io che lo dico, insomma, le serie tv americane, europee, nord-europee vanno alla stragrande, perché la televisione intanto raggiunge un'enorme quantità di persone, enorme. Questo lo diceva già Pasolini agli alboi della televisione. e questo è il mio personalissimo punto di vista, cioè, secondo me, la nostra società ha bisogno di tragedia, ma non di tragedia nel senso di cose brutte che accadono, di archetipi tragici, nel senso si è un po' perso, i problemi che ha la nostra società derivano da quello, secondo me, il concetto di rito, il concetto di archetipo, il concetto di mito. Mito inteso in senso evento, persona, figura fondante attorno alla quale si aggregano società, le ideologie, la religione, i partiti politici. Adesso siamo nella società liquida, in cui tutti dicono tutto il contrario di tutto, dopo un secondo un'altra cosa. Nel mito questo non accade, ci sono dei ruoli molto chiari. E la televisione è molto più adatta per fare questo, le serie tv sono molto più adatte, sono molto più vicine a quello che era il romanzo d'appendice, cioè se tu pensi che Guerra e Pace, Delitto e Castigo sono usciti a puntate sulle riviste, e tu una cosa così con un film non la puoi fare, perché un film, per quanto lungo sia, dura tre ore. Cioè è una serie tv, intanto hai la serialità, quindi hai la possibilità di indagare di più questo meccanismo che è quello che interessa a me. Sei anche uno di casa, quando sei in una serie televisiva. Nel cinema sei uno che la gente va fuori casa per vedere. Esatto, secondo me, come dire, lo switch che bisogna ancora fare è passare, se no la televisione generalista morirà, è che le persone scelgano cosa vedere. Il concetto della televisione generalista è che la televisione è accesa e la gente la guarda. Però così si degrada completamente la capacità di attenzione e di percepire le cose belle della gente, perché se la casalinga deve capire quello che tu fai, mentre fai il sugo e intanto parla col marito, capisci che il significato deve essere molto molto semplice. Invece, per esempio, le serie americane, ma anche le serie che fa Sky, non lo so, Gomorra, che infatti è una serie bellissima, è stata premiata in 64 paesi, romanzo criminale, per dire quelle italiane, ma le nuove serie danesi, le serie americane, la gente sceglie di vederle. E quindi, come dire, c'è... Però, è vero, sei uno di casa, cioè l'approfondimento e l'empatia che tu riesci ad avere con un personaggio in una serie tv è molto maggiore che in un film. È come se tu, quando vai a vedere un film, in qualche modo cercassi un concetto e una storia. quando tu guardi una serie tv, cerchi un'appartenenza, cioè cerchi di identificarti con l'eroe che è il protagonista della serie, positivo o negativo che sia. Ti vai a immedesimare. Ti vai a immedesimare, no? E quindi, secondo me, il processo catartico, cioè quello che tu ne puoi portare via, quello che... È di più, cioè puoi riflettere di più anche su quello che è la tua vita, grazie a una serie. Questo è, insomma, il mio punto di vista, poi magari altri dicono altre cose. Poi hai preso parte a serie anche di grande successo, i polisieschi, per esempio. Sì, sì, certo, certo. No, no, io sono... Ma, come dire... E poi... Credo che soprattutto per com'è il meccanismo in Italia ci sia più bisogno perché gli autori, quelli che vengono definiti gli autori in Italia, hanno abbandonato il pubblico 40 anni fa. Hanno abbandonato il pubblico chiudendosi nella loro piccola riserva indiana, facendo film per pochi, interamente finanziati dallo Stato. Io non sono un fan del finanziamento che lo Stato debba entrare in qualsiasi ambito culturale, cioè dovrebbe finanziare Pompei, indubbiamente, perché non può autopagarsi ed è patrimonio dell'umanità, ma invece l'intrattenimento dovrebbe autopagarsi, come succede in Inghilterra, come succede in America. Questo che cosa ha causato? Il fatto che gli intellettuali dell'epoca abdicassero al ruolo dell'intellettuale che è di stare con la gente, fare un po' d'affaro, no? che la televisione commerciale diventasse quello che è, insomma, Nani, Ballerina e Cotillon, che per carità va bene anche quello, ma solo quello è un problema. Solo quello è una limitazione. È un problema, nel senso, è un problema sociale diventa, perché poi la gente ha quell'orizzonte lì e quindi sogna di meno, è meno creativa, trova meno soluzioni ai problemi, alle crisi che, vabbè, alla crisi italiana, ma mondiale, che stiamo vivendo, no? Crisi in greco vuol dire cambiamento, però per poter cambiare bisogna trovare delle nuove forme e se tu non hai un popolo che è abituato a usare la testa, rimane così. Però non è colpa sua, non è mai colpa di chi guarda, è sempre colpa di chi fluisce, secondo me. Certo, è un processo in cui bisogna scommettere, è un processo difficile, ma è in atto in questo momento, quindi o la televisione pubblica prende questo treno, oppure, secondo me, è destinata a soccombere. È un'occasione persa. Ma è destinata a soccombere, proprio. Cioè, la gente si comincia ad abituare a scegliere, tramite social network, tramite... Diventa protagonista, diciamo, è meno passiva, in quel senso. Può farlo di più, la tecnologia aiuta, no? Cioè, una volta, se tu volevi far sapere, a me, per dirti, un complimento, bisognava scrivere alla mia gente che mi mandasse la lettera, adesso c'è una pagina Facebook, mi scrivono su Facebook, io rispondo, se posso, quasi in tempo reale. Senti, un professionista come te, quando guarda un film, al cinema, in televisione, lo guarda anche con occhio tecnico. Forse se lo gode meno da spettatore ed è più coinvolto a andare a ricercare aspetti tecnici, o no? Se il film è bello, se la serie TV è bella, sei pubblico, come gli altri. Magari poi io lo rivedo una, due, tre volte. Se cominci a notare gli aspetti tecnici, vuol dire che c'è qualcosa nella storia che non ti emoziona. Un film, una serie TV, uno spettacolo a teatro, la prima cosa che devono fare, secondo me, è prenderti qua, cioè, proprio alla bocca dello stomaco, così, e tenerti incollato. Che sia farti ridere, farti piangere, ma, insomma, farti emozionare. Quella è la prima cosa. Quindi, quando ti emozioni, perdi, tra virgolette, capacità critica, giustamente, no? Poi, magari, lo riguardo un'altra volta, per gli aspetti tecnici, è chiaro. Per esempio, ho visto, ultimamente, ho visto, per citare un film, questo Birdman di Narritu, e la prima volta che l'ho visto è rimasto così. Poi, l'ho visto altre due volte, sono andato a vedere che ho capito dove erano i piani in sequenza, dove finivano, come si muoveva la macchina, ma questo viene dopo. La prima è emotiva. E un attore si riguarda? Ma io provo... A parte la prima messa in onda per capire... Io provo sempre molto imbarazzo nel riguardarmi. Agli attori che lavorano con me quando faccio il regista non gli consento di guardarsi mentre giriamo, perché, secondo me, un attore si... Quando si riguarda... Sono pochissimi gli attori e sono quelli che hanno... Lo fanno da 50 anni, cioè De Niro, forse. Riesce a essere oggettivo. Ma quando tu ti riguardi, la prima cosa che vedi dici, madonna che naso che ho, madonna ma che voce. Perché tu sei abituato a sentirti all'esterno e a vederti sempre rispetto a una prospettiva. Questo ti distrae dal lavoro. Cioè, questo non è il tuo lavoro, non è mettersi la crema giusta a fare l'attore. Fare l'attore è interpretare. Allora, tutto quello che ti distrae dall'immedesimazione e dal credere, dall'entrare dentro quel personaggio è nocivo. E secondo me riguardarsi è nocivo. Quando vai in onda, uno si riguarda anche se secondo me è strano. Il processo di apprendimento di un attore è molto strano. Io non ne ho mai imparato dai miei errori perché mi sono visto e ho visto che sbagliavo. ho sempre imparato dal giudizio degli altri ma non necessariamente il giudizio ah, tu lì hai sbagliato perché anche il giudizio è una persona della strada tra virgolette che ti dice ah, ma lì mi hai emozionato là no e lì tu capisci. È un processo di apprendimento cioè sei riuscito a trasmettere qualcosa perché poi è quello cioè non sempre come tu ti percepisci è corrispondente a come gli altri ti percepiscono e tu devi lavorare su come gli altri ti percepiscono non come tu ti percepisci. Eh sì perché poi il risultato va lì. Il risultato va lì cioè lo fai per te lo fai per loro. Senti parliamo del presente su cosa stai lavorando e poi del futuro insomma quali possono essere i progetti. Io sto lavorando sto scrivendo quest'anno insomma ho lavorato meno come attore più come autore regista sto scrivendo un soggetto per una serie tv ambientata nel mondo dell'elisoccorso che frequento ormai da un po' perché ho fatto un programma Factual che si chiama Pericolo Verticale che è andato su Sky è andato molto bene per una grossa casa di produzione siamo in fase di sviluppo stiamo scrivendo il soggetto ho scritto un film tutto ambientato a Imperia che chissà mai se riuscirò a fare però insomma già finito ho scritto scritto bisogna girarlo bisogna trovare i soldi che è lo scoglio più difficile tutto ambientato a Imperia tutto ambientato a Imperia una storia che è successa tratta di una storia vera una storia che è successa a mia moglie mia moglie fa l'avvocato è un avvocato del foro di Imperia e quando mi ha raccontato questa storia è liberamente ispirata naturalmente non è nomi eccetera quella sarebbe una bella storia da raccontare spero che insomma adesso sto a un appuntamento proprio a fine mese con la produzione di Roma con la Film Commission sono già Film Commission Liguria in cui ahimè la provincia di Imperia non è dentro perché ha voluto non esserci quindi potrebbe essere che il film su Imperia venga ambientato alla Spezia però però insomma io spero che di sensibilizzare la mia città su treni che sarebbe meglio non perdere però poi insomma io non faccio un amministratore faccio l'artista l'artigiano e quindi è meglio che posso solo dare dei consigli ecco però diciamo queste sono le due cose e per il futuro per il futuro sì io ho dei progetti come come autore come regista e come attore insomma ho fatto dei provini vediamo come come va avanti però su quelli sai vige la segretezza finché non hai firmato non si dice nulla parlavamo di Imperia com'è il tuo rapporto con la città come la vedi ma il mio rapporto con la città di Imperia è molto stretto naturalmente perché insomma ho vissuto dieci anni fuori poi mi sono sposato con una ragazza di qua e come si dice sarà che si dice moglie buone dei paesi tuoi però insomma non è che non ero non ero la prima ragazza che avevo quando ho conosciuto mia moglie quindi se ho scelto lei chiaramente non è che l'ho scelta perché è di Imperia l'ho scelta perché la amo e perché però vuol dire che il legame però il legame è forte io ho un legame molto forte con questa terra qua ne è prova il fatto per esempio che io ho cominciato a fare regista e a scrivere soprattutto quando mi sono ritrasferito qua io a Roma non scrivevo non riuscivo a scrivere se io dovessi pensare di scrivere un film intero a Roma mi sparerei cioè quindi ho un rapporto molto stretto penso che sia un territorio difficilissimo da amministrare perché perché non ha un'anima perché è stata è stata una città industriale quando sembrava che l'Italia dovesse essere un paese industriale ora non lo è più oggettivamente non lo è più perché non può esserlo perché perché il territorio che abbiamo non consente di competere con altri territori molto più semplici e perché non c'è abbastanza attenzione secondo me a puntare cioè l'olio che viene dall'imperia dovrebbe essere dovrebbe costare dieci volte là il resto e bisognerebbe convincere la gente che deve comprare che se vuole comprare deve comprare quello lì perché si fa solo qui perché lo puoi fare solo qui no e quella è una cosa l'altra cosa dal punto di vista culturale io ho fatto molto poco qui ma non per mia scelta diciamo ho partecipato a varie inaugurazioni varie cose insomma sono sempre disponibile sempre insomma un posto che sono molto attento dove metto la faccia quindi un posto che sia un concetto sono sempre disponibile mi piacerebbe poter prendere parte a un progetto culturale ho molte idee secondo me ci sono delle cose che si potrebbero fare anche senza un esborso di soldi eccessivo e da parte delle realtà locali la prima cosa da fare è far parlare le realtà che ci sono ci sono un mucchio di realtà imperia un mucchio realtà culturali che non riescono ad avere voce non si parlano non si parlano perché il Ligure è chiuso è chiuso per definizione cioè i Liguri sono stati l'unico popolo che i Romani non sono riusciti a conquistare cioè alla fine hanno accettato di avere il diritto di passaggio perché i Liguri si chiudevano nell'entroterra gli lanciavano di tutti i Romani e loro non entravano poi quando c'era da fare una sfida chiamavano il più grosso dei Liguri dicono qual è il più grosso delle regioni alemane questo qua dai meniamoci quindi come dire la nostra forza è anche il nostro limite però sei automaticamente tagliato fuori sei fuori quindi intanto cominciare a mettere in rete tutte le realtà culturali che ci sono sul territorio fare in modo che un turista che arriva possa avere in mano una pagina Facebook un volantino in mano in cui sa tutte le cose che avvengono in quel giorno perché magari e poi dire faccio un esempio tu comitato di dei negozianti via dell'ospedale la tal via e dell'altra via avete tutto il diritto sacrosanto e io vi ringrazio io istituzione che facciate questa cosa qua magari vi dico solo che se è in rete potete farla a un giorno di distanza anche per voi se tu fai un evento e ce n'è un altro a fianco cioè poi si coordinano magari poco però non si coordinano per niente faccio una cosa te la fai dall'altra parte e ci dividiamo la gente però questo concetto presuppone che si lavori non per i voti ma per il bene della città perché questo modo di lavorare qui non porta zero voti lavorare nella parrocchia del quartiere porta molti più voti e lì come dire secondo me lo scopo di un amministratore cioè De Gasperi diceva il politico guarda alle prossime elezioni lo statista guarda alla prossima generazione secondo me c'è bisogno di statisti in questo momento non di politicanti perché è chiaro se tu hai solo interesse ad avere un bacino che ti rielegga allora è certo che fai le cose del quartiere e le fai contro quell'altro quartiere però facendo così rimaniamo fermi cioè se deve essere così mi auguro che prima o poi ci compri qualcuno perché forse può fare meglio ecco se invece non è così io mi metto a completa disposizione per se non è così per poter come dire mettere a disposizione unimente la mia esperienza per poter dare romanzo insomma avendo visto un po' di mondo facendo questo lavoro qui lavorando nella comunicazione e c'è tanta gente brava c'è tanta gente brava ma non solo gente che è andata fuori anche gente che sta qua realtà che lottano col coltello fra i denti per fare qualcosa ma per esempio te ne cito due il Cineforum d'Imperia il Cineforum d'Imperia ha 700 iscritti cioè a Roma non c'è un Cineforum che ha 700 iscritti con tanti iscritti 700 sono tanti tantissimi in una realtà come questa sono tantissimi cioè su 20 mila Imperia lascia perdere i comuni Imperia città ha 25 mila persone cioè sono tante 700 questo il Cineforum Cinema Centrale e il Cavour non si parlano cioè c'è una via di distanza sì sì pochi metri un'altra realtà lo spazio vuoto lo spazio vuoto fa una stagione ma io cerco di non farmi mettere degli appuntamenti fuori Imperia per poter andare a vedere gli spettacoli cioè giro tanto ne vedo di roba in giro quindi vuol dire che è bella fanno delle cose belle e hanno sempre pieno dico loro due non voglio mancare di rispetto a nessuno perché sono le prime due che mi vengono in mente ma ci sono io faccio un altro esempio quando ho girato il mio film il mio primo film Cose Cattive io ho fondato una piccola casa di produzione che si chiama Caya Film ho voluto mettere la sede legale a Imperia anche se qui praticamente non lavoriamo ma proprio come segno sul mio territorio e quando abbiamo fatto il primo film che è stato prodotto da Luca Argentero dalla Inside Production di Luca Argentero la metà della troupe la metà no un terzo della troupe sono ragazzi di Imperia che negli anni sono stati formati si sono formati insieme a me insieme a Manuel del Stefanolo che è il mio socio e lavorano e lavorano e vanno in giro fanno bella figura Andrea Languasco che è un ragazzo di Imperia che siamo cioè siamo professionalmente cresciuti insieme io quando sono stato testimone al Canon per la nuova campagna Canon Mondo dell'anno scorso e il fotografo ha richiamato lui per lavorare con gli altri testimoni al di là di me perché lavora bene io sono stato fiero cioè c'è la gente è un orgoglio però come dire cioè tu chiedi a lui ma il Dams cioè se il Dams è quello che è non serve a niente non può aiutare cioè però ci sono ci sarebbe il modo di mettere in mente tutte queste realtà secondo me ci sarebbe non è una questione di testa è una questione di pensiero non è una questione di fondi solo di fondi è una questione di pensare in un altro modo pensare a un risultato che non avverrà domani domani ma fra cinque anni sei anni ma io ti dico anche se mi dicessero guarda non lo vedrai tu ma ci sarà ma io cioè lo farei con grande gioia anche perché poi uno non si può lamentare se poi i ragazzi non hanno prospettiva bivaccano bisogna dargliela la prospettiva cioè poi se non la prendono uno gli dà gli schiaffi sulla testa ma prima dargliela prima devi dare l'occasione perché se non gli hai l'occasione cioè poverini come fanno come si fa a prendersi la collone insomma no io lo dico perché cioè tra quelli che bivaccano potevo esserci anch'io se non avessi avuto qualcuno che mi che in quell'età lì in cui non si è nel carne e prece mi ha spinto a quella professoressa quella professoressa famosa poi come dire bisogna fare così secondo me poi adesso io avrei anche delle idee molto concrete su come farlo ma forse non abbiamo il tempo di esprimere però ci sono delle cose che si possono fare beh devo dire che siamo partiti ripercorrendo la tua carriera televisione teatro cinema e poi siamo arrivati insomma a parlare della realtà locale con questa analisi molto profonda molto seria e importante noi ti ringraziamo per essere stato con noi e che dire buon lavoro grazie a voi per tutti i tuoi progetti grazie a voi e un saluto a tutti e grazie mille grazie per il lavoro che fate grazie a tutti per la cordiale attenzione appuntamento alla prossima puntata arrivederci